Volevo che tu ci raccontassi l'evento che siete venuti a presentarci che ha direttamente da porto stato il video 1 maggio PS vai Cristiano Allora noi facciamo un grande evento lì da me è un parlo scampagnata quindi a Piano di Monte Verde e ci troviamo nei pressi di Monte Giorgio no? Esatto Monte Giorgio e quindi faremo il 30 di giugno naturalmente partiamo con le auto storiche e qui appunto c'è il magico stanno a fare il giugno poi sui social eccetera ci dà una mano quindi è molto in gamba su questo e va bene e la domenica il primo di luglio ci avremo cantori d'epoca percorso su un percorso di gifers poi abbiamo delle mountain bike mountain bike per bambini eccetera eccetera quindi tutti alla pressa del 31 Piano di Monte Verde che ricordiamo è dal 30? 30 giugno e primo luglio meno di così non ci poteva fare ovviamente però una cosa dovremmo dire Sanno qui manca per le auto storiche prossimo anno auto storiche anche qui prossimo anno auto storiche lasciamo passare il nostro Dario Spesani ringrazio i nostri amici che sono passati a trovarci e hanno aspettato tutto il pomeriggio per avere un'intervista con noi e noi fa senz'altro tanto piacere grazie Sanno, grazie Cristiano ci vediamo alla prossima grazie a voi mi raccomando dal 30 al primo luglio la stazione della preghettura a Monte Verde campagnale grazie a Dio grazie a voi grazie a voi ciao 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 ciao